Nel mondo di uomini e donne, l'attenzione continua a concentrarsi su Brando, Raffaella e Beatriz mentre rivelano dettagli intimi e emozionanti delle loro esperienze post-programma. È cambiato tutto, uomini e donne. Raffaella e Brando confermano la loro relazione. La prima intervista è quella di Beatriz, la cui non scelta da parte di Brando ha scatenato una serie di riflessioni sulla sua reazione tranquilla e riservata. Dopo la serata, sono tornata a casa tardi e ho trovato conforto nell'affetto degli amici, che mi hanno portato hamburger e gelato. Ha condiviso Beatriz. Ho trascorso del tempo con loro per distogliere la mente e riflettere su me stessa. Dall'altra parte, Raffaella e Brando hanno svelato dettagli del loro primo momento insieme al di fuori delle telecamere. È stato strano non avere le telecamere intorno, ha ammesso Raffaella. Mentre Brando ha aggiunto, abbiamo trovato subito la nostra naturalezza, liberandoci dalla tensione accumulata durante il programma. Raffaella ha parlato anche del cambiamento nei confronti di Brando, notato già durante l'esterna a Napoli. È scoppiato l'amore. Ha rivelato. Mentre Brando ha condiviso. Una volta rimasti da soli, era difficile realizzare cosa fosse successo. Il nostro progetto è vivere l'esperienza senza pressioni, godendo della compagnia reciproca. Le interviste hanno offerto uno sguardo intimo sulle emozioni e le dinamiche tra i protagonisti di Uomini e Donne, lasciando i fan desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro per queste affascinanti storie d'amore.